carissimi signori non correte eh ma dove ci troviamo io sento tutti canteggi stiamo andando a te con vostri primi qui siamo dove stavamo prima comunque se Silvano non so a Ghiè invece stiamo andando allo stesso posto di prima è vero ti ha detto Gio perché ti ha da ripetere una roba credo che ti c'era visto e chiede perché si capiva che tornava ma perché non c'è mai? non c'è mai staccato? non c'è mai se tu hai una casetta qui mi stia staccato eh non mi preoccuperei andiamo a scendere qua San Martino siamo a San Martino prima non l'ho visto che qua c'è si ma questa strada che è a terra fatta così non mi piace si si no rimetteranno penso no penso che sotto e giù si mandano non si esiste cioè ora vai a capire la vai a via oh ma facciamo una via diversa eh da prima oh che c'è? oh mamma mia ma che c'è? oh la sicaya, menta, menta, menta l'occhina ma che stiamo paratissi terrestri? se voglio morire è che stiamo paratissi oh no se in paratissi si sta così io preferisco di morire invece di vivere ma secondo me manca se sia così bello eh ma infatti è più bello no no io mi vado a cercare una casetta, un lavoro ecco due turisti che si fanno i selfie scatta scatta il tuo telefono non ce l'ho scatta devi premere non è tecnologico come il mio già sai che ti ho attivato la funzione che puoi toccare lo schermo e fare la foto prima invece è ricostretto a premere il pulsante c'è un applauso a chi lo sta facendo signora applauso a me no no che lo sta facendo a me per dire bra bra e fammi una foto finalmente ti sei deciso a fare una foto ma questa c'è una foto a me ma non è già la miseria signora mi permette mi permette comunque signora mi metto troppo l'occhio dentro un minuto guarda guarda allora signori adesso vi dico una cosa io già sapevo che i bar non c'erano non mi sarei mai permesso di offrire se sapevo che i bar c'erano però c'è una tecca, rubi il piacchino di vino e non puoi affettare tutti umbriachi bello questo gatto ciao amici questo secondo me si fa un terremoto e non muove niente è tutto bloccato non vorrei che venisse il terremoto oh ma dove siamo? ah dove siamo passati i primi ti avevo detto di fare una storia diversa miseriaccia ora andiamo a proseguire velocissimi però c'è anche un cappone ma non mi piace? ma non mi piace il coloro di vestitura ma non mi piace il coloro di vestitura ma non mi piace il colore di vestitura ma con il quale è troppo bello ma perché è questa schiume al mattino? è la lumache che l'ho lasciata ecco qua un turista stanco vi faccio vedere questo è il turista stanco eccolo la mi sta facendo la foto il turista stanco mi fa la foto fa pure fin di che il telefono fa scatta invece per mettere il telefono scatta guardate che bel turista signori eh non ve lo rubate che questo è il nostro turista preferito io sono la guida questo è la guida tutti gli smerano senza i miei eh oh però com'è bello mamma è un spettacolo